Ehi, ciao ragazzi, questo è un nuovo video, io sono JB Gamer e oggi vi, però, vedere... No, faremo la review e l'unboxing di Razer Go Li Enthus che l'ho messa pure come... questa foto? Sì? L'ho messa pure come il mio sfondo, mettetelo perché è davvero bellissimo Ok, iniziamo l'unboxing Allora, prima di tutto, vi devo far vedere, il Razer ha fatto una cosa molto bella Si può sentire da questo buco Dunque, ha fatto una roba molto intelligente Le stesse non le possono sentire come è Allora, all'inizio sarà così Con il simbolo della Razer Bellissimo E se non conoscete la Razer È una marca che fa cose per computer gaming Dunque, vi lascerò il link in descrizione del loro sito Qui, togliamo la scatola Che è caduta E iniziamo la review Iniziamo la review Proprio qui Terra Che bello Allora, prima di tutto vi volevo far vedere che questo tappetino mouse è più grande di quello del solito Quattro volte quello del solito E questa è la versione media Perché c'è pure la versione estesa E quella più piccola La versione estesa è anche per la tastiera Come vedete c'è il simbolo della Razer Infatti in 3D Molto bello Verde E qui ci sono delle gocce La cosa che mi piace di più di questo tappetino del mouse È che è molto flessibile Non è duro E sotto ha questa cosa ruvida Ha le cuciture Come vedete Le cuciture E anche Ha un'immagine bellissima Ed è molto Soffice È molto liscia E l'ho già sporcata Che genio che sono Questo è un tappetino mouse Che mi piace molto È il mio preferito Per tutti i tappetini mouse Che ci sono Della Razer E sì È bello il contrasto Nero con verde Ce l'ho pure come sfondo dell'iPad Questo è la fine per il video Dovete davvero prendere Questi prodotti Razer Sono di qualità Perfetti Sono buonissimi Ci sono mouse Cuffie Computer In sé Laptop Tappetino del mouse Tante altre robe Sì Mettetevi Mettetevi Un like Iscrivetevi al mio canale E Ciao ragazzi Ah Eppure Iscrivetevi al canale Back on Bob 69 Sasha from the nether E poi 77 enchanted boss Capito? Dunque Andate subito A scriverti Scrivetemi Italiano Perfetto Iscrivetevi al mio canale Iscrivetevi Il canale 77 enchanted boss Sasha from the nether E back on Bob 69 E sì Ciao ragazzi Eìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì